Ciao a tutti ragazzi, Gabba Gabba Ehi e benvenuti a questa nuova puntata di L'Oletta 5 Channel sto facendo l'anteprima qui invece di farlo in macchina ho soltanto due tacchie e ho dimenticato a caricare la telecamera yeah! e quindi sto facendo l'anteprima adesso così quando arrivo mi vedrete soltanto che farò così al ristorante Giappo Giappo come vedete qua fuori c'è vento guardatele che splendida giornata di nuvolosità e venticello e quindi ragazzi niente allora io, Maria e altri due miei amici una coppietta i protagonisti anche del film chi che non l'ha visto vedetelo ovviamente non mi interessa se vi piace oppure no il mio scopo non era essere acclamata dalle persone me ne frega un cazzo io lo faccio perché mandava di farlo punto e basta quindi seguite sotto nell'info box ci sono i miei sponsor mi raccomando ragazzi aiutatemi perché sono andato un mese di tempo e ve lo dico per poter guadagnare qualcosina con due o tre dei sponsor che mi hanno chiamato e mi hanno contattato loro quindi mi raccomando ragazzi aiutatemi visitando i loro siti e mettendo mi piace alla pagina dei viaggi club allora andiamo al Giappo Giappo per la prima volta seduta e sigo nel ristorantino mi sederò e mangerò da più non posso e niente ragazzi ci vediamo dopo e spero che poi questo video vi piacerà adesso staccherò oh allora ragazzi siamo arrivati qui al ristorante adesso ci aspettiamo a Mario ma vedete eccolo qui oh yeah e c'è Maria c'è Gabriella ci aspettiamo a Mario prendiamo veramente il buffet allora ragazzi iniziamo con l'assaggio io e le mie bacchette dai questa volta la prima qua poi ce l'abbiamo fatta via io sono aperta a tutto io sono aperta a tutto viva l'Italia viva il bordo il salmone è buonissimo io ho preso questi il salmone è già andato via questo costino con delle spezie rosse che non so cosa è rosse piccante un involtino di primavera un pochino di spaghetti di soia e questo costo che sembra polipo è polipo è un polipo ah ok grazie Maria per la descrizione e poi questo qua c'è il riso e poi c'è l'alga nera che la torta l'ho assaggiata non mi ha fatto niente perciò ripropiamo l'uovo a mangiare vabbè mmm buono mi piace come essere la cucina orientale buonissima ormai ho tutto il piatto suo italiano ho tutto il italiano che dite lo scaderemo la terza guerra mondiale buono buono assaggiamo gli spaghetti il pesce è ottimo come ho venuto quella torta devo dire che è più sapulito l'alga nera è buonissima l'alga nera? si questo è pavante adesso assaggiamo i polipo le dico i denti no vediamo non amo la cucina a stagopè la cucina è bambua piacciono eh? ti piace come babba non hai mai mangiato però gli appetiti a te piace mi piace la cucina non piace a te manco questo se io ti ho portato perché ci vorrai andare tu però te la stai a me vediamo buono ma veramente fa pochino avevo povertito il sushi e vedi per il sushi e vedi con la sale pace io anche faccio con grossi cose ma niente ho visto che il tuo video si l'ho fatto per per illuminare anche altre persone su queste cose perchè non le sanno poi molte cose le ammucciano apposta le ammucciano ma come si fa a scurrirle io non lo sapevo completamente infatti stavo parlando del video che ho fatto sotto all'info box lo potete vedere tutorial per i concorsi voi dovete scamminare sempre diversi siti tipo la repubblica italiana poliziadistato.it queste cose ufficiali io scammino concorsipubblici.com e recentemente ho scambito che sto facendo concors anche io ad Alettone Calabria io ho già becine scambiamo in calate no di fino eh di fino di fino ma semplicissima buonissima 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 iscrivete iscrivetevi sotto se vi è piaciuto questo video mettete ovviamente un bel like cerchiamo di avere almeno 10 like una tuttina ovviamente nel mio box dovrete tutte tutto ciò che fare con i miei sponsor bari quindi mi raccomando iscrivetevi sempre e ci vediamo al prossimo video ciao ciao